Ciao a tutti, sono Spiega Notato e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete oggi c'è Happy Wheels, purtroppo non sono riuscito a registrare in tempo Minecraft, infatti ho iniziato a mezzanotte ma poi a un certo punto non avevo più voglia, ero stanchissimo quindi niente, ho detto vabbè lasciamo stare. Quindi oggi Happy Wheels, domani uscirà la nuova puntata di Minecraft e forse questa settimana inizierà anche Battlefield, lo farò in co-op con un mio amico che ancora non conoscete e niente quindi aspettatevi una nuova serie, fighissima e nabosissima, come il suo nome. Allora iniziamo subito, abbiamo un Super Mario, un Super Mario, spero che non sia, ecco lo sapevo, spero che non sia bugato stavo per dire perché, oh no, what the fuck, oh si guarda papà sono seduto senza testa, ma sì, certo, perché mi è staccato al collo, non ho capito. Allora proviamoci dai, oh, ahia, con calma, boom, non di testa che se no si tronca, ah, ok, non mi dà gli items, vabbè non me lo faccio, oh, what the fuck, vediamo un po', oh, wow, ma che cazzo, fuck you, fuck you, oddio, sono abituato a calcare ESC e invece hanno cambiato il tasto in tab da un po', da un po' di tempo. block, fall, challenge, vediamo un po', questa challenge. Allora, ole, i blocchi, ah, ok, 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 figo, mi piace questa cosa. Allora, vediamo un po' se ce la faccio, eh. Allora, start, devo correre verso avanti, correre verso avanti, sono sicuro, sono sicuro, sono sicuro, boom, boom, motherfuckers, no, no, ok, questa la devo fare, questa la devo fare, è fighissimo questo gioco, questa è la modalità di gioco, ma porca, e se invece facessi una cosa velocissima, cioè, correre avanti sinché, sinché non mi fermo, corri, ok, 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 credo di aver trovato il metodo, no, 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 ce l'ho quasi, ma porcaccia allevaccia, puttana, dove riuscirci, dove riuscirci, dove riuscirci, sì, 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 ma sì, vittoria, vittoria, mamma mia, quanto mi piace questa parola, grabbing jumps, vediamo un po', si parla di jumps, quindi userei poco, no, non userei poco, tab r, ah, beh, sì, certo, cosa devo fare, non mi si arrampica, perché non mi ricordo il tasto, z forse, no, ma la spazzatrice, ma non si aggancia, sì, oh fuck, ne ha saltato uno, va bene, no, regrappate, oh, merda, dai, ci voglio di provare, what, cos'era quel suono, ole, no, fuck you, ok, 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 sto già cambiando, perché non lo voglio, ops, ho fatto un casino, molto casino, ok, the dying light, dying sarebbe il colore, what the fuck, eh, ciao, ciao amico, ciao, scusa, allora, vediamo un pochino, è una città disastrata, non possiamo andare avanti, quindi, andiamo indietro, eh, cosa devo fare esattamente, eh, ah, ah, dove si può andare, what the fuck, ah, ma sono di zombie questi, oh, scusami, fuck, 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 come mi divento, come mi difendo, devo prendere in corsa e sbatterli addosso, faccio così, oh, 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 scusami, non è vero, scusami, oh, cazzo, what, non so perché, ma questo gioco mi ricorda uno di quei vecchi giochi per PS2, quelli dove praticamente c'erano dei cosi strani per andare avanti, eh, potrei andare avanti, please, non potrei andare avanti, perché non mi fa andare avanti, ah, è vero, posso saltare, ah, ah, what, ah, ok, oh, fuck, oh, porca Eva, oh, cazzo, oh, what the fuck, bel piede, comunque, eh, ok, mi sto flippando un po' gli occhi, ho vinto, però che merda questo livello, non mi è giocato a un livello più merdoso, oh, cazzo, devo smettere di usare la, la rotellina del mouse, mmm, rope swing, dai, che oggi ne abbiamo fatto solo uno, è un po' anche merdoso, dai, what, 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 oh, le, 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 oh, fuck, mi sono spaventato, ehm, cosa, what, what, no, ok, 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 si va, oh, fuck, no, non mi è neanche uscita la voce, devo riprovarci, scusatemi, ma devo riprovarci, perché ha dei blocchi, cioè, tipo, si è sganciato un pochino, non lo so, e quindi qua, qua, per esempio, mi ha fregato, perché mi stavo mettendo bene le, le cuffie, no, fuck you, non ho voglia di stare qui mezz'ora a fare questa merda, ehm, happy wheels games, what the fuck, ah, i minigiochi, si, maiale di merda, ehm, 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 si è tipo incastrata, devo tenere le mani in alto, ho capito, boom, oh, ciao, oh, ciao, oh, no, no, devo riuscirci, oh, fuck, boom, headshot b, ci tieni le braccia in alto, porto in alto la mano, sono il tuo capitano, oh, fuck, no, eh, ma che palla, non ho dato possibilità di riuscita, cioè, se sbaglio, oh, cazzo, oh, scusami, ok, porto in alto la mano, sono il tuo capitano, come prima, porta in alto la, eh, porca puttana, oh, sì, ce l'ho fatta, oh, 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 c'è tutto in questo livello, oh, cazzo, ehm, io ci riproverei per l'ultima volta e poi, poi cambiamo il livello, anche perché è quasi finito il tempo, c'è ancora qualche minuto, vediamo un po', facciamo così, poi vediamo se ci riesco, ole, eh, dove resti, tipo, scivolare, eh, no, acchiapalo, acchiapalo, ok, ok, bastava, eh, aspettare, ok, ce lo devo fare, ce lo devo fare, no, fa più, c'ero quasi, l'ultimo tentativo, scusatemi, ma devo riuscirci, è una questione di vita o di morte, oh, oh, cazzo, ma dai, ma che cazzo, però, muori, bastarda, sei una culona, davvero, in tutti i sensi, proprio, oh, scusami, perdonami, no, le braccia, eh, dovresti, ecco, è la prima volta che, stavo per dire che, ma porca Eva, ok, basta, 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 ciao, ciao, se non fosse per il fatto che sto registrando l'avrei provato ancora diecimila volte, save your zone, io non lo salvo, oh, no, sei un culone, nego di me, eh, oh, non sono l'azista, what, non sono l'azista, mi danno sti epedofili, scusate, ok, exit to menu, don't move, soccer, soccer, ma sì, le facciamoci un don't move oggi, oh, di testa, di piede, dribbla, va avanti, la palla segue un'altra strada, io faccio il cronista, il bambino lo perdiamo, Timmy, ciao Timmy, eh, non so perché ma sta pedalando con i piedi, cioè, con la bici al contrario, ma non fa niente, olè, con la testa parte, e vince, e facciamo anche i gol, eh, ammazziamo il portiere probabilmente, eh, va bene, usciamo da qui, facciamo l'ultimo livello e poi chiudiamo la puntata qui, oh, porca puttana, mi sono dimenticato anche adesso di non utilizzare la retellina, eh, cosa facciamo, can you, oh, porca puttana, oh, can you survive, dai, can you survive, ce la farò, eh, usiamo il nostro amico Pogo, oh, fuck, oh, fuck, sì, 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 no, ultima prova, oh, fuck, non ce la farò mai, z, come posso staccarmi, da questa sedia, no, aspetta, allora, ce l'ho quasi, dopo, oh, fuck, ok, 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 io sono Spiegaramotato, se il video vi è piaciuto, mettete in piace e scrivetevi, condividete, oh, boom, cazzo, mettete in piace, scrivetevi, condividete, mi trovate sempre su Twitter, Google+, o sul mio sito, Spiegaramotato.ml, o su Facebook, digitando Facebook.com slash Spiegaramotato, ufficio, io sono Spiegaramotato, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video qui sul mio canale e ci vediamo domani con una nuova puntata di Techcraft, ciao!